Un concorso tra parrucchieri e parrucchiere per chiudere l'annata scolastica del Capas e per stabilire quale fosse la miglior pettinatura ispirata a Expo 2015. E' ciò che è andato in scena a Saronno domenica mattina in Via Antici. Vediamo com'è andata. La Tour Eiffel, il Taj Mahal e il Big Ben di Londra. Non è una gita turistica ma un concorso per parrucchieri. Tutto in tema Expo 2015. Forbici e pettine hanno lavorato duro domenica mattina presso il Capas, centro artistico, parrucchieri e acconciatori signora saronnesi di Via Antici. Non solo taglio e messa in piega ma anche una sfilata con tanto di giudici schierati, modelle sapientemente acconciate e parrucchieri, ragazze e ragazzi che stentano a trattenere l'emozione. Anche il comune di Saronno ha timbrato il cartellino con l'intervento dell'assessore alla cultura, Cecilia Cavaterra. Un concorso che ha visto protagonisti gli alunni del primo, secondo e terzo anno della scuola Capas, appunto. Ogni categoria ha avuto i suoi primi tre classificati. A partire dal tema libero scelto dagli studenti del primo anno, poi la varietà fantasia con richiami agli abiti da sposa per quelli del secondo anno e le Nazioni Expo 2015 che hanno arricchito le capigliature create dagli alunni del terzo e ultimo anno. I fotografi ne hanno immortalato le opere e le premiazioni in attesa del concorso del prossimo anno.